benvenuti avete sempre desiderato vivere nella natura ma essere comodi al centro di torino non crede sia possibile seguitemi oggi mi trovo in strada sant'anna numero 83 a 4 minuti di macchina da piazza armada la casa è circa 170 metri quadri ed è composta da ampio ingresso living grosso salone tinello con cucinotto tre camere da letto doppi servizi e entrambi finestrati un balcone due terrazzi e cantina se non avete voglia di spostarvi con la macchina proprio sotto casa c'è la linea 54 della gtt natura aria fresca e tranquillità non resta che contattarmi